Per la mattonella di gelato 3 gusti abbiamo bisogno di 3 cucchiaini di caffè solubile amaro, 3 cucchiaini di cacao amaro, 3 confezioni di panna fresca da 200 ml ciascuna, bagna, io sto usando del vermouth, e un pacco intero di pavesini più un pacchetto extra. Scelto il contenitore in cui andremo a preparare la mattonella, in un piatto mettiamo parte della bagna. Inzuppiamo velocemente i pavesini nel liquore e andiamo a foderare il fondo e a ricoprire i laterali del nostro contenitore. Intanto in un altro contenitore mettiamo 200 ml di panna fresca, io vi consiglio di tenerla in frigo già dal giorno prima, i 3 cucchiaini di cacao e andiamo ad aggiungere un cucchiaio di zucchero perché sto usando una panna non zuccherata. Montiamo il tutto velocemente con le fruste per circa 3 minuti fino a raggiungere la consistenza necessaria e non troppo burrosa. Andiamo a mettere la farcia al cacao sul primo strato di biscotti, la mettiamo a cucchiaiate che poi andremo a livellare delicatamente. Andiamo a ricoprire il primo strato con un altro strato di biscotti leggermente inzuppati. Questa operazione va fatta velocemente altrimenti i biscotti assorbono troppo liquido. Posizioniamo i biscotti sulla farcia fino a ricoprire tutto il perimetro. Mettiamo nel contenitore lo stesso o un altro 200 ml di panna che questa volta andremo a montare semplicemente con il cucchiaio di zucchero per lasciare lo strato interno bianco. Andiamo a montare il tutto velocemente e lo andiamo a versare sempre a cucchiaiate delicatamente sullo strato di biscotti. Volendo a questo strato intermedio potete aggiungere delle gocce di cioccolato fondente. Andremo a livellare questo secondo strato e lo andremo a ricoprire di nuovo con i biscotti leggermente bagnati nel liquore. Fatto ciò andiamo a preparare l'ultimo strato di farcia. Versiamo i 200 ml di panna nel contenitore che stiamo usando. aggiungiamo i 3 cucchiaini di caffè solubile e il cucchiaio di zucchero. Andiamo a montare con le fruste alla massima velocità e raggiunta la consistenza necessaria l'andiamo a versare sullo strato di biscotti. Livelliamo il tutto delicatamente senza fare pressione per evitare che gli strati affondino l'uno dentro l'altro. e andiamo a ricoprire sempre con lo strato di biscotti leggermente inzuppati nel liquore. ricopriamo tutto il perimetro e la nostra mattonella è pronta per il congelatore. Io ho usato un contenitore ermetico perché una volta tolto il tappo mi è più facile capovorgerla e quindi tagliarla a tranci. Messo il coperchio teniamo la nostra mattonella di gelato almeno un giorno nel frigorifero. spero che anche questa ricetta sia di vostro gradimento. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e vi aspetto per le prossime ricette. Sì Escrivetevi al canale Escrivetevi al canale